La lotta agli sprechi avviata dalla direttore del distretto sanitario Sapri Camerota ha portato ad un risparmio di circa 280 mila euro senza tagliare alcun servizio ai pazienti, ma nei circa tre mesi di gestione targata Adamo Maiese sarebbe venuto fuori anche dell'altro e per questo non è da escludere che a breve potrebbero esserci risvolti di altra natura. Spese allegre da una parte e somme indebitamente percepite dall'altra, tanto è venuto fuori dall'intervista realizzata ieri mattina, tanto si evince dalla relazione redatta dallo stesso direttore e inviata a dirigenti e dipendenti. Di qui sarebbero partite le prime minacce con lettere anonime e quant'altro, questo testimonia evidenziato Maiese che con la mia gestione sto rompendo un sistema consolidato che nulla aveva a che fare con la sanità. Ma Maiese non sembra intenzionato a gettare la spugna, anzi appare ancora più determinato a fare chiarezza, a mettere in regola i conti per garantire un servizio sanitario di qualità ai pazienti del distretto Sapri Camerota. Nel corso di questi primi tre mesi, dall'analisi degli atti, sarebbero venute fuori anomalie che in alcuni casi potrebbero finire anche nelle aule giudiziarie. Dei controlli effettuati sulle indennità accessorie percepite dai medici di medicina generale, si legge nella relazione, si è provveduto a razionalizzare e a recuperare somme indebitamente percepite. Ma l'andazzo, a quanto pare, sarebbe stato comune a molti. Turni di lavoro pagati più del dovuto per prestazioni che non sarebbero state eseguite, straordinaria go-go e tutta una serie di stranezze che, presto annunciato Maiese, finiranno sul tavolo dell'autorità giudiziaria. Per fortuna agli immancabili furbetti della pubblica amministrazione, va detto però, ha evidenziato Maiese, che si è contrapposto chi ha lavorato con attaccamento e dedizione, permettendo di raggiungere anche ottimi risultati, chi ha sbagliato è giusto che paghi, ma chi ha fatto bene è altrettanto giusto che vada elogiato.